Tutta la zona a nord ovest della Liabiauz era destinata da sempre ai mercati. Oggi ne rimangono tre, soprattutto destinati ai turisti, e tutti in ambienti coperti e sormontati da cupole con i tetti progettati per convogliare all'interno l'aria fresca, simili alle torri del vento iraniane. Ecco quindi il Taki Sarrafon, il bazar destinato ai cambiavalute, il Paki Tel Pac Fouchon, quello dei cappellai, e il Taki Zargaron, occupato dai gioiellieri. Tutti offrono ogni genere di mercanzia, dai tappeti, per i quali la città è celebre, anche se più per il loro commercio che per la loro fabbricazione, agli oggetti di artigianato, per cui tutto il paese è famoso e che rappresentano davvero degli splendidi ricordi di viaggio. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti